allora eccoci qua sembrano quasi due italia sulla nostra casella di posta dillo a mirta peraltro vi invito a scriverci a raccontarci le vostre storie sono moltissimi lavoratori che si lamentano di un momento difficilissimo sappiamo che sono tanti casi di crisi che stiamo seguendo eppure le cifre del pil sono straordinarie cucinelli perché c'è questa grande differenza no tra un pezzo d'italia che corre e invece una profonda sofferenza del mondo del lavoro in molti casi